Il tramonto di Bazzano, al centro della piazza, gli Spider, gli Spider-Man Club, la Polaris, la Canam e poi ci siamo noi, victory, veri victory, con i Canam, allestiti Stratos, con gli sport mille appena nati e già subito hanno fatto innamorare tanti appassionati nuovi e poi chi c'è qua? Noi ci sono! In Europa, le donne che vincono sempre indietro a noi perché sono loro che meritano la passione dei quad, il gallo di Chile, la Gaia e la Fabiana, victory team, e tutto il resto, tutto il resto cos'è? Tutto il resto è noia! Han bevuto già tanto, il CF, il Z3, il 650, stupendo, nuovo, lui il Z8, chi l'ha provato l'ha capito sa cosa vuol dire divertirsi in sicurezza, il Razer 1000 appena allestito, veri victory e che dire poi? Mauro? Al telefono? C'è tutto qua, c'è il mondo victory Asti, grande! Guardate, victory team Asti, l'ha fatta la maglietta Siamo a Bazzano, ci siamo e il tramonto andiamo, andiamo a fare questa notturna Grazie!